Affittare i locali sfitti del centro anche solo per il periodo estivo, al fine di creare nuovi punti vendita per il periodo di maggior afflusso turistico. È la rivoluzionaria proposta anticrisi varata dal comune di Ormea, in particolare dal sindaco Giorgio Ferraris, in collaborazione con la filiale locale dell'agenzia immobiliare Tecnocasa. L'obiettivo è quello di riempire diversi locali che la crisi ha lasciato da tempo vuoti nella centrale Via Roma. Amministrazione comunale e agenzie immobiliari ne hanno individuati una decina e sono pronti a mettersi a disposizione gratuitamente di chi vorrà avviare un'attività commerciale, anche soltanto per un paio di mesi nel corso dell'estate. Gli affitti saranno popolari, con cifri che non superano i 600 euro e che aderirà all'offerta, così come i commercianti già operanti nel centro di Ormea, potrà giovarsi anche delle diverse iniziative e manifestazioni che verranno organizzate nel corso dell'estate per attirare e intrattenere i turisti. Grazie a tutti.